Tu non ho già sentito qualche altra volta, fa forse parte della saga di Saraglossi. No mio signore, fa parte della superstrada, solo così bene. La bagnara, e come siamo finiti alla bagnara? David e voi, voglio sapere se ci sono farome di vita qui in Ciociania. Sì, mio signore, gli abitanti di queste zone si chiamano Ciociani, sono uomini che vengono in pace. Bene, David e tu, voglio sapere come parlano, dimmi il loro codice di comunicazione, voglio poter comunicare con il tuo padre. Kim! Se venganciate. Kim! Se venganciate! Kim! Suon frate! Come sa riado di Gioci, suon frate! Cами! Cami! Toga caraschesti qui estami. Fammi parlare come io sono santi, come sono fatti di oggi, ma non mi piace stare a parlare, ma non ti trovi da freddo, non ti mostri se sarai, ma non ti mostri se sarai, ma così brutto vado a bagnare, come ti mostri la fanguolo, tu ti posso fare l'anima da pieni d'arco, e non mi piace stare a parlare, oh mio signore, oh mio signore, provvedo subito mio signore, ma se tu conosci sarai, cavò, cavò, che tu non sei qua, che tu non sei là. E' sì, e' sì, e' sì, e' sì, e' sì, e' sì, perché non si è brutto e non so gli uomini, ma si è detto, portiamo da Marti, per nuovi e strani molti, se sei la missa, tre milioni di anni luce, e andro a casa, ma si è portata, alla maniera, per nuovi e strani molti. La prima lì che tu sa via, mi usa un fatto apposta, che stai un attimo. Ma seconda parte è la prima delle volte, che si è ormai di Gerona, la mezzaglia di che stai un attimo. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 25, 26, 17, 17, 28, 11, 13, 2, 29, studies, 19, 18, 14, 21, 21, 14, 29, 21, 20, 25, 28, 15, 16, 28, 14, 사 Illustày Reistradio P anarzino! ma già ci è che sti un fatto capitano scape duolo fatti ragazzi mi hanno parlato io non metto il mia mano feste non metto bene sapevo tutto quanto ma si portate in una modalità mi è proprio a me skip one sei mi è andato ma gli cigli ma bella resta sotto gli cigli che è per me e mi è andato